Le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 30 settembre di Globus Television. Lunedì, regime di alta pressione, ma venti moderati. Giornata con cielo sereno su tutta la regione. Temperature massime fino a 28 gradi, minime basse. Mari. Mar Tirreno da mosso a poco mosso. Mar Ionio molto mosso, stretto di Sicilia mosso.